Qualcuno ha mangiato la banana di Cattelan, in realtà è una commedia scivolosa. Era passato solo qualche mese da quando i ladri avevano rubato il suo celebre water d'oro, peraltro non ancora ritrovato. Eppure Maurizio Cattelan non ci ha messo troppo per tornare alla ribalta, lo ha fatto con una banana appiccicata al muro dello stand della Galleria Perrotem nell'ultima edizione di Art Basel Miami. Arte oppure no, per chi l'ha criticata c'è tanto di cui parlare. Vediamo perché. Prendi una banana matura che ricorda la copertina dell'album del gruppo di Rock Velvet Underground in Nico, disegnata da Warhol nel 1967. Utilizza lo scotch americano grigio, quello metallico, magari quello già utilizzato nell'opera e per Fair Day 99, dove il gallerista Massimo De Carlo era stato letteralmente attaccato al muro. Stabilisci una cifra alta, ma non troppo, diciamo tra i 100 e i 150 mila dollari. Esponila in una fiera, una fiera che sia tra le più importanti al mondo, magari ad Art Basel Miami, e mentre i collezionisti la comprano, lascia che il pubblico faccia il resto, come ad esempio mangiarsela. Eh sì, tutto questo si tratta di Comediam, il titolo dell'ultima opera d'arte presentata in tre edizioni più due prove d'artista da Maurizio Cattelan, che di certo non è andato in pensione, anzi ne infila una dopo l'altra. Tutto si è svolto a Miami nella settimana di apertura della fiera Art Basel, dove in occasione della preview dell'evento le prime due edizioni della banana sono state vendute a due collezionisti francesi per ben 120 mila dollari. E la terza? Beh, nonostante fosse, stando a quanto dichiarato dalla galleria, destinata ad un museo, è invece finita tra le fauci dell'artista David Attuna, che l'ha mangiata in pochi istanti davanti al pubblico della fiera, rimasto scioccato. Ma tutti con gli smartphone in mano, pronti a riprenderla, ed ecco qui che anche questo è diventato virale. Emanuele Perrottini, in apertura della fiera, quando la banana aveva già catturato l'attenzione mediatica, aveva dichiarato, le banane sono un simbolo del commercio globale, un doppio senso e sono un classico dispositivo per l'umorismo. E qui, di globale, c'è stata solo la condivisione, perché le foto del celebre frutto, appeso con lo scotch e poi divorato, ha mandato in tilt i social network. Solo dopo l'episodio proprio di Cattelan ha affermato, non mi importa nulla che sia stata mangiata, perché ciò che conta è solo l'idea. Ed è proprio qui il punto, perché Cattelan, per routine, anche i collezionisti francesi che hanno acquisito l'opera, sono consapevoli della deperibilità per natura stessa dell'opera. Ma non dell'idea artistica che ne è alla base, proprio per questo sono tutelati da due strumenti. Il primo è importantissimo ed è il certificato di autenticità, rilasciato dall'artista e riconosciuto dal mercato, per rendere trasferibile un'opera d'arte immateriale. Il secondo, invece, è un vero e proprio libretto di istruzioni a cura di Cattelan, con tanto di riproduzione fotografica dell'intero processo creativo, dove illustra come realizzare a casa l'opera, indicando il tipo e la dimensione del nastro adesivo, l'altezza da terra e la colla da usare. Beh, a questo punto che non si dica che Maurizio Cattelan non ha più idee. La sua arte continua a colpire, è finita su tutte le copertine del mondo. La galleria però te ne ha addirittura aperto un profilo per questa banana, diventata meta dei più grandi appassionati, con fotomontaggi, ricostruzioni e meme di qualsiasi natura. Cattelan fa parlare di sé e fa parlare della sua arte e anche del valore stesso dell'arte. Qualche euro per realizzarla, un valore intangibile immenso, è questo, è Maurizio Cattelan. E tu che cosa ne pensi?